Ciao, sono Marco e nel video di oggi andremo a vedere come costruire un e-commerce con Flatsom. Nel video di oggi parleremo rispetto a tutti gli altri video presenti sul canale che puoi trovare suggeriti qua sopra relativi a Flatsom, tema per Wordpress che trasforma Wordpress in un vero e proprio e-commerce grazie anche all'aiuto del plugin e-commerce. Nel video di oggi andremo invece a vedere come poter trasformare Flatsom in un catalogo cioè come poter nascondere i prezzi e i vari bottoni e quant'altro per quanto riguarda l'e-commerce ma trasformare il nostro e-commerce in un vero e proprio catalogo con pochi e semplici passaggi senza bisogno di utilizzare il codice. Avevamo visto nelle demo che la modalità catalog non era presente andremo quindi a vedere effettivamente come costruirla. Non perdiamo quindi adesso altro tempo, andiamo direttamente a vedere quella che è la parte pratica. Bene, vedremo quindi come trasformare il nostro e-commerce in un vero e proprio catalogo. Quindi andremo a nascondere i prezzi, andremo a nascondere anche i vari bottoni che abbiamo all'interno dei prodotti per appunto aggiungere al carrello direttamente i prodotti. Vediamo immediatamente come possiamo farlo. All'interno della nostra dashboard di Wordpress andiamo dentro Flatsom avanzate quindi nell'opzione avanzata di Flatsom. Abbiamo qui una tab che è proprio Catalog Mode quindi ci fa scegliere di abilitare il catalogo questo disabiliterà l'Add to Cart Checkout Shopping quindi disabiliterà questo e possiamo anche scegliere se andiamo a vedere un'opzione alla volta intanto in questo modo abilitiamo il catalogo e come vedete già il carrello è scomparso però sono ancora presenti i prezzi abbiamo anche la visualizzazione veloce sempre con i prezzi quindi se volessimo lasciare i prezzi ok possiamo lasciarli mentre invece con l'opzione successiva possiamo anche andare a nascondere i prezzi quindi andiamo a vedere un attimino anche all'interno del singolo prodotto adesso nasconderemo tutto quanto carrello, prezzo e quant'altro stessa cosa all'interno dello shop quindi abbiamo anche nascosti i prezzi guardate con due click come siamo riusciti già a trasformare il nostro Flatsom e il nostro catalogo inoltre abbiamo altre opzioni aggiuntive per esempio ci chiede se vogliamo ripiazzare nel leader il nostro carrello quindi avete visto che avevamo il carrello che è scomparso possiamo rimpiazzarlo con quello che vogliamo con una voce di menu con dei social o per esempio lui ci dice possiamo anche utilizzare la barra di ricerca semplicemente utilizzando lo shortcode perché vengono accettati gli shortcode e ci dice possiamo utilizzare search quindi andiamo per esempio a mettere la barra di ricerca e ecco che abbiamo un'altra nostra barra di ricerca al posto per esempio del carrello bene ma non finisce qui però perché cosa possiamo ancora fare abbiamo la possibilità di aggiungere all'interno della pagina del prodotto quindi stiamo parlando di qua e stiamo parlando della visualizzazione veloce quindi all'interno di questo lightbox anche del testo o degli shortcode d'accordo quindi per esempio possiamo inserire del testo dove dice che questi prodotti sono prodotti relativi al catalogo d'accordo quindi che cosa possiamo fare possiamo anche perché ci suggerisce Flatsome di poter compiere questa azione anche qua possiamo utilizzare gli shortcode quindi quale miglior cosa se non per esempio andare attraverso contact form a crearci un modulo di contatto per richiesta informazioni quindi facciamo una prova e vediamo come poter trasformare e completare così il nostro catalogo facciamo per esempio richiesta informazioni ora selezioniamo soltanto il contatto quindi magari mettiamo nome email e successivamente abbiamo ancora magari informazioni mettiamo ora io sto compilando sto creando un un contact form casuale quindi richiedi info informazioni informazioni ok adesso non sto a compilare tutto quanto il contact form e a vedere tutti quanti i moduli è soltanto per crearlo per poterlo vedere d'accordo quindi cosa facciamo andiamo a prenderci il nostro shortcode e a questo punto ci richiamo all'interno di sempre delle opzioni avanzate e per esempio all'interno del prodotto possiamo inserire lo shortcode vediamo se abbiamo fatto tutto corretto andiamo ad aggiornare ed ecco che qua abbiamo il tuo nome la tua email oggetto e il tuo messaggio d'accordo? quindi siamo andati ad inserire una richiesta informazioni relativi al prodotto d'accordo? in maniera totalmente automatica altra cosa che possiamo fare anche qua è implementare lo stesso contact form o se vogliamo anche un messaggio di testo anche qua nella visualizzazione rapida del prodotto quindi all'interno del lightbox vero e proprio quindi quello che dobbiamo fare è niente di più di andare a ricopiare il nostro contact form appena creato quindi il nostro modulo di contatto e andare ad aggiornare le nostre opzioni in questo modo andiamo a vedere se abbiamo fatto tutto correttamente ecco che anche qua il nostro modulo di la visualizzazione veloce ha il modulo di contatto per appunto andare ad inserire il nostro prodotto a richiedere informazioni per il nostro prodotto guardate come con 5 opzioni abbiamo letteralmente trasformato il nostro e-commerce in un vero e proprio catalogo d'accordo? nel momento in cui decidessimo di ritornare indietro non dobbiamo fare altro che andare a rimuovere il contact form andare a rimuovere la barra per far ritornare il carrello e riabilitare i prezzi e disabilitare la modalità di catalogo direi che per quanto riguarda la trasformazione di flezzum in un catalogo per oggi è tutto bene io spero che tu abbia trovato utile questo video che sia stato chiaro per te e se comunque c'è qualcosa che non ti è chiaro qualcosa che non hai ben capito e vorresti farmi delle domande magari anche per trovare qualche spunto per qualche nuovo video ti invito come sempre a scrivermi qua sotto nei commenti in modo che appunto possiamo parlarne o possiamo valutare di fare qualche altro nuovo video in ogni caso se comunque questo video ti è piaciuto metti mi piace attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video ciao